Chi siamo? Dove andiamo? Qual è il senso della vita? È nato prima l'uovo o la gallina? Elvis Presley è morto? L'uomo è andato sulla luna? E i coccotrilli bianchi della Fogna di New York? Se questi quesiti ti appassionano, ti consiglio di fare un bel noleggio a lungo termine. Avrai certamente più tempo per approfondirli. Alessandro Supini e Stefanelli Rent, la vita è già abbastanza complicata ma il noleggio te la semplifica. Oggi vale la pena di confrontare il noleggio di una vettura a benzina da 100 cavalli con una elettrica. L'elettrica la noleggiata con 241 euro, la benzina con 202 euro, poco più di un caffè al giorno. Vale veramente la pena farci un pensiero. Questo in particolare è un allestimento Elegance. Vi piace di più? Basta aggiungere 26 euro al mese. In Citroen possiamo proporvi anche il noleggio dei mezzi a chilometri zero. Questo ad esempio è un Citroen Jumpy Atlante, autocarro 5 posti N1. Spazioso, comodo, divertente. Potete noleggiarlo con 432 euro al mese con tutte le manutenzioni e la casca completa. Fra i furgoni più venduti del mercato, il Citroen Berlingo Van è certamente uno dei protagonisti indiscussi. Affidabilità, capacità e comfort da autovettura sono le sue caratteristiche più apprezzate. Questo mese lo possiamo noleggiare a 238 euro al mese, manutenzioni e casco incluse. Per servirvi meglio e in sicurezza possiamo concordare un appuntamento presso la nostra sede di via Bentini 111 Bologna in zona corticella oppure in una video call. Mercedes ha capito prima di altri le nuove tendenze e oggi propone la gamma di SUV più completa del mercato. La scelta di motori è quasi infinita, così come la possibilità di personalizzazione. L'ultima nata è la GLA, una SUV compatta che piace a tutti. Puoi noleggiarla a partire da 309 euro al mese, manutenzione e casco incluse. Le famiglie che hanno bisogno di spazio e anche perché no di 7 posti, nella GLB trovano una bella soluzione. Anche in questo caso la scelta di motori è quasi infinita, così come la possibilità di personalizzazione. Puoi noleggiarla a partire da 342 euro al mese, manutenzioni e casco incluse. La mobilità elettrica non è mai stata così conveniente. La nuova bellissima Peugeot 208 elettrica ha 340 km di autonomia e, grazie agli ecconcentivi e agli ecobonus, la puoi guidare a noleggio con soli 243 euro al mese, manutenzioni e casco incluse. Non hai più scuse, ora o mai più. Per gli amanti della station wagon, Peugeot propone la 308. Comfort e solidità al servizio delle famiglie in cerca di spazio. La possiamo noleggiare con 299 euro al mese, manutenzioni e casco incluse. Per servirvi meglio e in sicurezza, possiamo concordare un appuntamento presso la nostra sede di Via Bentini 111 a Bologna e in zona Corticella, oppure una video call. DS è il marchio di lusso del gruppo PSA. Propone in gamma solo modelli SUV molto ricercati con una scelta di motori notevole, benzina, diesel, hybrid plug-in e full electric. Oggi vi ho selezionato una DS3 crossback full electric, che viene definita una SUV premium compatta, con cui ti puoi distinguere senza rinunciare alla facilità di parcheggio. Anche grazie all'eco bonus e gli eco incentivi, puoi noleggiarla con 274 euro al mese, manutenzioni e casco incluse. La DS7 che vi ho scelto questo mese è equipaggiata con il nuovo motore diesel ecologico da 130 cavalli. Noleggiatela con 393 euro al mese, manutenzione e casco incluse. È certamente il modo migliore per provare il lusso alla francese senza pensieri. Per servirvi meglio e in sicurezza possiamo concordare un appuntamento presso la nostra sede di Via Bentini 111 a Bologna in zona Corticella, oppure una video call con tutti i vari device. Alessandro Suppini e Stefanelli Rent, la vita è già abbastanza complicata, ma il noleggio te la semplifica. Gentili telespettatori, buonasera, mi chiamo Guglielmo Diamanti, faccio parte del gruppo Stefanelli 1952 qui a Bologna. Siamo nel showroom della vendita dei veicoli commerciali del gruppo, quindi Peugeot, Citroen e Opel, che si trova in via Bovicampeggi 6 qui a Bologna, a 50 metri dalla stazione. Vi aspettiamo numerosi per appunto i veicoli commerciali. Adesso vi farò vedere all'interno, abbiamo un'ampia scelta. Il momento è giusto perché ci avviciniamo alla fine dell'anno, quindi molte aziende devono sostituire il veicolo perché è obsoleto. Abbiamo delle ottime opportunità sia sui veicoli nuovi, sia sui chilometri zero. Magari adesso vi mostro qualcosa partendo appunto da questo bellissimo jumper, è un Peugeot Boxer, furgone rosso, molto bello, che qui a Bologna si addice molto, che ha un 46% di sconto dal listino. Ecco i nostri prezzi sono molto molto vantaggiosi, vi aspettiamo per personalizzarveli. Ecco magari adesso andiamo dentro che vi faccio vedere qualche altro prodotto e vi invito comunque a venirci a trovare per poter scegliere qualcosa di vostro interesse con le misure e le caratteristiche che si addice alle vostre esigenze. Eccoci all'interno dello showroom di via Bovicampeggi 6, veicoli commerciali, gruppo Stefanelli, Peugeot, Citroen e Opel. Partiamo subito alla vetrina con un bellissimo Opel Vivaro in versione media, c'è il piccolo, il medio e il lungo, di colore grigio. Normalmente si pensa ai veicoli commerciali solo di colore bianco, invece siamo partiti con un bellissimo furgone rosso e adesso passiamo ad uno grigio. Il corto di questo prodotto è 180 cm di cassone, il medio come questo 210 e poi c'è un lungo da due metri e mezzo di profondità del cassone interno come carico. Siamo in grado di servirvi con tutta la gamma, quindi possiamo personalizzare il mezzo in base delle vostre esigenze. Se andiamo avanti, vi faccio strada, vediamo un bellissimo Peugeot, sempre questo è l'expert, il nuovo expert, in allestimento medio, anche questo 2 metri e 100 di cassone. Anche in questo caso possiamo avere tre misure, quindi 180, 210 e 250 di carico interno. Sono tutti i tre posti, tutti completi, di climatizzatore, radio, bluetooth, tutti gli accessori che normalmente ci servono. Veniteci a trovare, siamo in grado di personalizzare il prodotto che vi occorre. Abbiamo oltre 150 furgoni in pronta consegna per potervi servire. Andando avanti, andiamo sul piccolino, anche qua Peugeot Partner, un musetto molto bello, molto caratteristico. All'interno abbiamo i tre posti, abbiamo tutti gli accessori che ci occorrono, climatizzatore. Questa è la versione normale, quindi la versione da 180 di cassone posteriore. Abbiamo anche la versione lunga, che ha 2 metri e 10. Qua vediamo un piccolino, in questo caso è sempre di Peugeot, sempre Expert, con il cassone di 180, la versione piccolina. Al suo interno potete notare le rifiniture, simi in pelle e tessuto per respirare nella schiena, sedili ergonomici, tre posti pieno di portoggetti, radio con bluetooth, sono veicoli veramente molto molto belli. Motori che spaziano dal 1.500, 100-120 cavalli, andare al 2.000, 120-150 cavalli. Abbiamo anche la possibilità del cambio automatico, otto rapporti, sempre di Peugeot o di Opel. Andando indietro, andiamo a vedere Opel Movano. Opel Movano è il più grande della categoria della famiglia Opel. Ha cambiato il modello quest'anno, abbiamo ancora diversi chilometri di zero, non tantissimi, che usufruiscono uno sconto del 50%, quindi con dei prezzi veramente fantastici. E su questo allestimento abbiamo l'L1-H1, l'L2-H2, l'L3-H2, l'L4-H2-H3. Quindi c'è veramente delle dimensioni da poter scegliere per ciò che è il piano di carico. Questo è proprio un furgone fatto per fare tanta strada, è stato costruito appositamente per i lavori anche pesanti, quindi è ottimo. Su questo modello possiamo avere anche i telai, i cassonati, i furgonati e i centinati, dipende dalle vostre esigenze. Vi porto l'attenzione, per esempio, a questo Opel Combo, la versione normale, quello con 180 di cassone posteriore, che si può avere anche a benzina, 110 cavalli, 1.2 a benzina, ci permette per chi non fa tantissimi chilometri, chi serve i centri storici, chi serve la prima periferia senza esagerare nel chilometraggio, di avere un motore benzina con le caratteristiche di 1,6 euro, sempre a benzina. Quindi non solo turbodiesel, ma anche benzina. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, mi troverete qua, mi chiamo Diamanti, in Bovi Campeggi numero 6, gruppo Stefanelli, per personalizzare e servirvi anche nella, oltre che nella configurazione del veicolo che vi occorre, anche delle modalità di pagamento. Abbiamo, per esempio, dei leasing anche a privati, anche ad aziende molto basilari, partiamo da un 2,99, 3,99 di tasso, a dei full leasing che comprendono la manutenzione, la responsabilità civile, il furto, incendio, la casco, tutti i servizi ammessi e connessi. È un'ottima proposta anche finanziaria per poterlo pagare col finanziamento. Quindi siamo in grado di personalizzare anche la modalità di pagamento. Vi aspetto numerosi, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. arrivederci a presto. Ciao, buonasera a tutti, sono Lorenzo Tassi, specialista a veicoli commerciali per il gruppo Stefanelli di Bologna, per i marchi Citroen e Peugeot. E qua di fianco a me ho il Citroen Berlingo, è eletto One of the Year anno 2019, insieme ai fratelli gemelli Peugeot Partner e Opel Combo. Allora, questo qui praticamente è un esemplare nella versione a passo lungo. Vi ricordo che nel Berlingo ne esistono due versioni, passo corto e passo lungo. Questo qui non specifico è in grado di caricare due bancali e nove quintali di merce. Una versione passo corto con un motore 75 cavalli può essere vostra a 11.800 euro più IVA per i veicoli che abbiamo disponibili, quindi sono già nel nostro deposito. Parliamo di consegni in 10-12 giorni effettivi. Inoltre abbiamo possibilità di offrirvi leasing e finanziamenti a tasse agevolati a partire dall'1.90. Ma poi voglio spegnere anche due parole sui nostri veicoli commerciali più grandi, quelli che nella famiglia sono i più grandi, quindi parliamo del Citroen Jumper e del Peugeot Boxer. Questi mezzi sono fatti interamente in Italia, quindi sono poi tra i più versatili e adatti per coprire il maggior numero di esigenze lavorative, dato che comunque troviamo il classico furgone lamierato, disponibile in 4 lunghezze e 3 altezze, ma troviamo anche i telai da poter allestire, quindi secondo di quello che è il vostro business, possono essere allestiti con delle celle frigorifere, con il cassone ribaltabile, se siete demuratore, piuttosto che il cassone fisso, le furgonature di gran volume, eccetera, eccetera. Adesso non vi sto qua a delencare tutti perché veramente ci sono un milione e mezzo di combinazioni possibili. Parlando un attimo dei veicoli allestiti, abbiamo disponibili, già fatti, già pronti, dei cassoni fissi e anche dei cassoni ribaltabili. Quindi comunque sia, questi qua sono dei mezzi che hanno le portate più grandi, perdonate il mio gioco di parole, della loro categoria. Parliamo di un ribaltabile con 11 quintali di portata e di un cassone fisso che arriva a 14 quintali di portata, quindi delle robe che veramente sono al top della categoria. Non abbiamo solo i cassoni, ma abbiamo anche, come dicevo prima, le furgonature di gran volume, quindi se siete degli autotrasportatori o avete un negozio, avete un mobilificio, praticamente sono dei mezzi che possono trasportare fino a 8 bancali e sono allestiti con e senza sponda caricatrice. Quindi a seconda di come lo preferite voi, io ho il prodotto da potervi dare già disponibile. Quindi è proprio questa la cosa bella, cioè che sono già disponibili, senza dover aspettare dei mesi tra produzione, allestimenti, collaudi. Sono già pronti, apposta per voi. Dovete solo comprarli, cosa volete che sia. Venitemi a trovare, io sono in via Paolo Bovicampe G6, a fianco della storica sede del nostro gruppo Opel Cisa 2000, oppure in alternativa mi muovo io, vengo io a trovarvi, vengo nelle vostre aziende. Non è assolutamente un problema. Fissiamo un appuntamento e vediamo insieme quali possono essere le soluzioni più adatte alla vostra realtà lavorativa. Di conseguenza io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e mi raccomando l'imperativo soltanto uno, fatturare. Buonasera a tutti, sono Mirko Veronesi, consulente veicoli commerciali. Se state cercando un furgone usato, qui ne abbiamo un'ampia scelta di veicoli di tutte le marche usati e anche chilometri zero di Opel, Citroen e Peugeot. C'è un'altra rotazione di questi veicoli, venitici a trovare e se non abbiamo nell'immediato il veicolo che vi serve, in poco tempo probabilmente ci arriverà. Vi aspetto, ditemi quello che cercate e lo troveremo.